Propongo un brindisi ai novelli sposi. Alla salute! Lo spettacolo parla delle nozze con tre testi tratti da Canetti, Brecht e Chekhov ed è stato interessante vedere come gli autori abbiano una visione particolare del matrimonio. Abbiamo lavorato su di noi, su proprio degli ideali ma poi anche sul nostro corpo, sulla nostra voce, sull'immaginazione. Abbiamo proprio cercato di conoscere tutti gli strumenti dell'attore e poi oggi abbiamo cercato di metterlo in pratica attraverso il saggio. La cosa importante per un attore da apprendere da queste sei giornate è quanto è importante avere una tecnica e quanto è importante avere un allenamento fisico perché ciò che ho riscontrato in queste sei repliche è che senza tecnica e senza allenamento fisico penso che non l'avrei minimamente sopportate. È l'uomo più strano che mi sia mai capitato di incontrare. Di solito i farmacisti hanno un aspetto che consola. Probabilmente ha la tisi. Indovinato. Sono anni che ce l'ha ma non muore. Non morirà mai. Non può morire. Morirò sicuramente prima io. Ma gentile signora. Almeno vent'anni più di lei. Che ne intendi di donne? Ma mamma. Ma che bello fai gli occhietti e ti ingegno i capelli ricci eh. Ma tu lo sai a chi devi dire grazie per Cristo. A te mamma. A me e tua suocera. Dal cuore giovane e dalle forme fiorenti. È uno spettacolo interessante perché soprattutto dal mio punto di vista il fatto che abbiamo potuto vestire i panni di diversi personaggi in diverse circostanze, in diverse serate e in diversi contesti è stato una sorta di esperimento. Il personaggio diciamo che mi è piaciuto di più è quello che è stato in un certo senso anche inventato da Giancarlo Sanmartano che è questo Verstappen tedesco dove comunque gli ho dato vita. Ho dovuto fare un lavoro sul personaggio, su suonare la chitarra, occhi chiusi, poi cercare delle sensazioni, cercare di lavorare di immaginazione, di stare con le persone senza accavallare gli altri. Sono stato un idealista, un amico e un greco. Tre cose molto differenti tra di loro però allo stesso tempo molto simili. Alla salute! Salute! Ma da voi in Grecia ci sono le figri? Ci sono, ci sono! E i leoni? Anche leoni! E in Russia che non c'è niente, in Grecia c'è tutta! Teatro significa vivere davvero quello che gli altri nella vita recitano male e se questa accademia si chiama fondamento speriamo che noi riusciamo a mettere le fondamente e quindi abbiamo messo le radici, vedremo un attimino cosa fare dopo e sicuramente lo porteremo con noi. Come dice Giancarlo Sanmartano, bisogna prendere il volo. Ad oggi non dico che sono pronta per prendere il volo però ho scoperto di avere delle ali e già sono a buon punto. Uno dei personaggi che ho interpretato in Brecht è quello della sorella Ina che a un certo punto dice, peccato che questa bella serata sia finita così presto, dopo tutto viene una volta sola e poi, come dice Hans, comincia la vita perché quella di stasera non è la fine ma è l'inizio di tutto. Grazie a tutti.